Oggi presentiamo il concerto tributo a Ennio Moricore da parte del Volo. Oggi è una giornata veramente importante, perché presentiamo questo concerto del 5 giugno, tributo a Ennio Moricore, che ha assunto, col passare del tempo, una serie di significati importanti. Allora il primo vi do una notizia, perché l'ho ricevuta proprio questa mattina al protocollo, l'accoglimento da parte della Regione Veneto dell'istanza su cui avevo lavorato nelle scuole settimane, quindi la possibilità di fare i concerti all'interno dell'arena con una capienza di 6.000 persone. Siamo vicino a traguardo. Il Volo, tributo a Ennio Moricore, prossimamente. Grazie a tutti voi per averci dato questa meravigliosa opportunità di anche, come dicevamo, che è un messaggio di speranza e siamo onorati di poter rappresentare questa rinascita in qualche modo. Abbiamo sempre affrontato ogni conferenza stampa, non lo nego. Dico sempre che è un lavoro sognante, ma è sicuramente simbolo della nostra Italia.